oggi oggi amici miei lasciatemi essere un po in versione a marcorda ebbene questa è la macchina da ripresa la paillarda h8 reflex che usavo ai tempi dei tempi quando avevo 18 anni e mi divertivo a fare del cinema con questo ho fatto anche dei cartoni animati per cui mi interesso di video e da tanto tanto tempo tutto quello che potevo fare con questa con questa cinepresa ma anche molto di più non posso fare oggi in altissima definizione in 4k semplicemente con questo iphone il tempo passa però io non perdo la voglia di fare dei video e di fare delle riprese grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti